Alessio, mio figlio, ha 11 anni. Ha giocato per 5 anni a basket e poi quest'anno ha deciso di cambiare sport. Ha deciso di iscriversi a pallanuoto. Ora, pallanuoto non è proprio uno degli sport più immediati e quindi quando ha preso questa decisione mi sono chiesta quando avrebbe giocato la sua prima partita. La realtà ha battuto le mie previsioni perché ha già giocato un amichevole e domani giocherà la sua prima partita di campionato. Questo è il video di un allenamento. Quello che vedete sul fondo con la palla in mano è Alessio che guarda i compagni e non sa cosa fare. Poi l'aiuto allenatore si abbassa, lo incita, gli fa vedere il corridoio che ha davanti a sé. Alessio regisce distinto, prende la palla, nuota, va verso la porta e tira. Tornando indietro, l'allenatore si congratula con lui. Allora, ci sono due momenti fondamentali in questo video che hanno cambiato quello che Alessio ha fatto di quella palla e quello che Alessio farà nelle partite future. Il primo momento è quando l'aiuto allenatore si accorge della sua indecisione e decide di intervenire mostrandogli il corridoio che è davanti e lo incita a andare verso la porta e gli grida tira. Il secondo momento, invece, è quando l'aiuto allenatore si abbassa verso la vasca e batte un 5 a Alessio e la squadra esulta con lui. Allora, il primo momento ha cambiato che cosa Alessio ha fatto di quella palla e è valso un punto per la sua squadra. Il secondo momento cambierà quello che Alessio farà nelle prossime partite. Questo non è un caso isolato. Il primo allenatore di Alessio lo fa spesso. Da bordo vasca incita i ragazzi, grida spesso di farsi avanti e li supporta quando li vede indecisi o non sanno che cosa fare. Una volta, dopo un allenamento, il primo allenatore si è avvicinato a mio figlio, gli ha messo una mano sulla spalla e gli ha detto quando hai la palla davanti alla porta ci devi provare, devi tirare, perché se tu non provi a tirare non saprai mai se sarai in grado di farlo o meno. Allora, tutti i bravi allenatori fanno così. Non è una cosa speciale, però bisogna trovarli i bravi allenatori. Questa che vedete nella slide è Manuela Zanchi. È un oro alle Olimpiadi 2004 con il sette rosa. Adesso fa l'allenatrice. Dice una cosa semplice. Quando chiede a uno dei suoi ragazzi di scendere in vasca, prima lo guarda negli occhi e gli dice io credo in te. Io credo in te diventa quasi una formula magica e cambia la situazione. Allora, ma cosa c'entra tutto questo con lo showing up delle donne di cui stiamo parlando oggi? La percentuale di bambine che fanno sport di squadra in Italia è bassissima. E la situazione peggiora tra l'adolescenza e i vent'anni, quando c'è una caduta verticale delle ragazze che fanno sport. Se guardiamo poi ai numeri, diventa quasi imbarazzante. Sei bambini su dieci, tra i tre e dieci anni, fanno sport di squadra. Mentre cinque bambine su dieci fanno sport individuali. E spesso si tratta di danza e di ginnastica artistica. Perché è importante che le bambine imparino a correre dietro una palla. In fondo, anche negli sport individuali, l'allenatore incita, sostiene, promuove. Ma c'è una differenza ed è una differenza basilare. La differenza sta nel fatto che nella danza e nella ginnastica artistica, le bambine vengono spronate alla perfezione. La perfezione del gesto, del movimento, dell'espressione. Negli sport di squadra, invece, l'incitamento è approvarci. Allora, perché è importante? Una differenza non da poco. Se andiamo avanti a vedere quello che succede poi crescendo, gli studi ci dimostrano, per esempio, che gli uomini hanno promozioni e aumenti sulle prospettive future della loro carriera. Le donne, invece, molto spesso, lavorano bene, danno il massimo e aspettano la promozione e l'aumento, perché credono che qualcuno possa riconoscere il loro valore. Quando ci riescono, quindi, a avere quella promozione e quell'aumento, ci riescono sui risultati passati, non sulle prospettive future. E sempre quando ci riescono, perché non è detto. Allora, un esempio concreto è la Banca d'Italia. I test in Banca d'Italia erano fatti in modo che le risposte non date venivano calcolate come risposte sbagliate. Da un'indagine interna hanno dimostrato che questo tipo di valutazione penalizzava fortemente le donne, perché le donne, quando si trovano davanti a una domanda a cui non sanno rispondere, non ci provano, lasciano il foglio in bianco. Gli uomini, quando si trovano davanti a una domanda a cui non sanno rispondere, ci provano e corrono anche il rischio di azzeccarci. Allora, in questo modo, venivano valorizzate le risposte tentate degli uomini e venivano penalizzate quelle non date delle donne. La Banca d'Italia ha cambiato i test e ora sono diversi e danno chance a tutti. Allora, stessa cosa accade in generale per tutti i ruoli, le promozioni, i lavori. Anche qui, gli studi dimostrano che se le donne non hanno il 100% dei requisiti che vengono richiesti, non si fanno neanche avanti. Agli uomini, in genere, basta un 50% e ci provano. Se non fosse così, non si spiegherebbe questa differenza abissale che c'è fra il corso di studi e il mondo del lavoro. Se noi andiamo a vedere il mondo dello studio, 8 ragazze su 10 di solito decidono di continuare il corso di studi dopo il diploma. 6 ragazzi su 10 fanno la stessa cosa. Quindi le ragazze partono in vantaggio, sono già di più. Ma poi, durante la carriera universitaria, riescono anche a ottenere risultati migliori, voti migliori, finiscono più spesso in corso, hanno voti di laurea più alti e hanno esperienze extracurriculari molto più solide dei ragazzi. Eppure, il mondo del lavoro premia gli uomini. Se noi andiamo a vedere i dati a 5 anni dalla laurea, ci sono molti più ragazzi laureati che lavorano di quante non siano le ragazze. Non solo. I ragazzi molto più spesso hanno un contratto a tempo indeterminato, mentre le ragazze no. E questa è una differenza che poi continua anche in altri ambiti nel mondo del lavoro, come quello salariale. Dopo 5 anni, i laureati guadagnano il 19% in più delle laureate. Voi direte, dipende dal corso di studi che uno fa, dalla professione, dalla carriera, certo. Ma se noi prendiamo un laureato e una laureata che hanno le stesse competenze, lo stesso ruolo all'interno di un'azienda e le stesse mansioni, comunque sopravvive una differenza salariale, dopo 5 anni dalla laurea, di 150 euro. E neanche a dirlo, le donne vengono maggiormente penalizzate dopo la maternità. A quel punto, a quella tensione verso la perfezione che ci portiamo avanti da quando siamo piccole, si aggiunge l'inadeguatezza e il senso di colpa, per non poterci dedicare in modo totalizzante alla nostra professione. Ci sentiamo in colpa in famiglia e ci sentiamo in colpa sul lavoro. Un senso di inadeguatezza che fa sì, che facciamo fatica a alzare la mano e a proporci. E lo si vede, lo si vede nelle aziende, lo si vede nella politica, lo si vede nelle imprese, ai vertici delle imprese italiane. Sono una manciata le donne che occupano posizioni apicali. E vi faccio anche un altro esempio, quello della politica. Uno dei più grandi partiti italiani in questo momento sta andando a congresso. Se noi andiamo a vedere i candidati, sono sette uomini. Non c'è una donna che ha alzato la mano e ha detto sono io la persona giusta per questa situazione. Neanche una. A me, peraltro, succede lo stesso nella mia professione. Vi faccio un esempio piccolissimo, ma che vi dà la sensazione di quello che voglio comunicarvi. Io scrivo un'intervista, intervisto un esperto di un certo tema. Il giorno dopo ricevo un tot di messaggi e di telefonate di altri uomini che mi dicono, io ho le competenze per dirtelo meglio. Io ho l'esperienza per essere interessante, per approfondire quel tema. Non succede mai, dico mai, che ci sia una donna che mi manda un messaggio o mi fa una telefonata in cui mi dice io posso essere la persona giusta da intervistare. Allora, può essere che le donne non credano di avere le competenze. Può essere anche che siano talmente impegnate a lavorare sodo che magari non hanno il tempo di fare quella telefonata o di mandare quel messaggio. Oppure pensano che lavorando bene, noi giornalisti, prima o poi le scopriremo e saremo noi a fare quella telefonata per intervistarle. Il risultato però è che sui giornali voi trovate tutti esperti uomini con foto con le braccia incrociate e pochissime donne. E questo non può essere assolutamente soltanto responsabilità dei giornalisti. Ci sono però dei modelli femminili che stanno emergendo. E allora torno a parlare dello sport. Questa che vedete nella fotografia è Sara Gama, capitano della Juventus e capitana della Nazionale di Calcio Femminile che si è qualificata ai mondiali del 2019 in Francia dopo 19 anni di assenza della squadra italiana. È stata invitata a tenere un discorso al Quirinale per i 120 anni della FIGC. E nonostante le evidenti emozioni, non le ha mandate a dire. Ha detto che la storia delle donne nel calcio italiano è molto più recente. Non ha sicuramente 120 anni. E che le donne, per raggiungere gli stessi risultati degli uomini, in questo momento hanno bisogno di sostegno, hanno bisogno di investimenti, hanno bisogno di occasioni per poter crescere. E magari poter aspirare al professionismo perché in Italia le sportive, che sia Sara Gama o che sia Federica Pellegrini, non sono professioniste. Sono dilettanti. Vuol dire che non hanno le stesse tutele e non hanno gli stessi contratti dei loro colleghi uomini. E Sara Gama ha rivendicato una strada che non è più evitabile, dimostrando doti da capitana non soltanto in campo, ma anche fuori dal campo, di fronte alle istituzioni. Ha rappresentato in quel discorso tutte quelle giovani che oggi fanno sport e sperano che lo sport possa diventare per loro una professione. E non si è tirati indietro. E chissà quante volte Sara Gama, dal bordo del campo, si è sentita gridare da qualcuno, dal suo allenatore o da un sostenitore, tira. All'inizio del mio intervento vi ho parlato di mio figlio. Questa che vedete nella foto è mia figlia Alice. Aveva meno di due anni. Veniva al campo da basket, prendeva la palla e stava lì, faceva fatica anche soltanto a stare in piedi, guardava il canestro e lo sfidava. Passava il tempo a tirare e chiaramente a non riuscire a fare canestro. È cresciuta Alice dicendo di voler fare basket e oggi è la più giovane iscritta della sua società sportiva. Ora Alice tira canestro e lo centra. E ha anche chi le grida tira da bordo campo. E quando cresci con qualcuno che ti grida tira, prima o poi quel tira te lo senti risuonare dentro e nei momenti di crisi, nei momenti di necessità, riesci a dirtelo da sola. Mi piacerebbe che pensassimo quindi a gridare tira a tutte le bambine e le giovani con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Ma soprattutto mi piacerebbe che ci ricordassimo di quella bambina di poco più di un anno che ha quella palla enorme in mano, guarda il canestro e lo sfida. Perché quella bambina l'abbiamo dentro, ognuna di noi. E allora forse nel momento in cui ce ne sarà bisogno sarebbe interessante e sarebbe opportuno che ognuna di noi sapesse gridare a quella bambina tira! Grazie!